Ancora ben trovati dalla redazione di Chiaranze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla 1 dove troviamo rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Aglio. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per un ostacolo sulla sede ferroviaria tra le stazioni di Siena Lunga e Monte Pulciano. I treni sulla linea Siena Chiusi potranno subire ritardi o variazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social o sulla app di Muoversi in Toscana. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze nell'abito dei cantieri tramviari per la tratta Fortezza Libertà San Marco sono in corso. Lavori di posa della linea di contatto in Viale Don Minzoni e la rimozione di vecchi pali della pubblica illuminazione in Viale Lavagnini. I lavori si avviano alla conclusione. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Meruportana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio. Grazie a tutti.